Inizio il giorno di ritorno, Mr. Brocchi all'inizio di questa settimana parlando nella sua conferenza ha detto vorrei ritrovare un po' il Brescia come gioco, l'inizio del campionato, l'ha ribadito anche Sagramola ieri e anche quello che tu ti aspetti prima di trovare il bel gioco che si era visto sicuramente più nella prima parte che nella seconda Sì, è il nostro obiettivo, ci ricordiamo che abbiamo fatto delle partite nella prima parte, belle, dove ci divertivamo divertivamo anche la gente che ci guardava e poi magari invece nella seconda parte abbiamo cominciato a subire meno gol ma giocare un po' meno bene, ecco magari trovare un equilibrio tra queste due parti sarebbe secondo me vantaggioso È un caso però che quando la squadra giocava aperta, si andava a Verona senza porno, andava a Cittadella che allora era capista, ma massacrava più su tutti i punti di vista, la squadra però era finata in classifica Per forza, vincevamo, abbiamo vinto a Cittadella, abbiamo fatto una gran partita a Verona Giocavamo meglio, quindi facevamo più punti ed eravamo più nati in classifica Poi abbiamo cominciato a perdere qualche punto, a non vincere fuori casa Quindi siamo inditreggiati un po' Ti preoccupa il fatto che hai parlato di trovare l'equilibrio tra non prendere gol Tanto qualcuno in più, quindi trovare un bel gioco ma mantenendo l'equilibrio che abbiamo avuto ultimamente dietro Ti preoccupa il fatto che dietro purtroppo si sono persi due giocatori importanti Ma sì, sicuramente più che mi preoccupa mi dispiace tantissimo Sia per Rigor, soprattutto per Michele che lo conosco da più tempo Mi dispiace tanto Però abbiamo la fortuna che c'è il mercato aperto La città sa e l'ha anche detto che correrà ai ripari, quindi non sono preoccupato Che sensazione hai a rivederti vicino a Maui che fa ricordare Marto Bricci altri tempi? Sono molto felice perché ci può dare una grossa mano Lui in questi giorni che si sta allenando sta dimostrando di stare bene fisicamente Quindi se sta bene fisicamente in Serie B è un giocatore che secondo me può fare ancora la differenza Quindi può essere un valore aggiunto per noi attaccanti e per tutta la squadra in generale E poi può dare una grossa mano a noi pochi vecchi che siamo in squadra All'aiutare a crescere i giovani che ci sono Ma questo acquisto è comunque un acquisto decisamente top per la categoria Può alzare le ambizioni del Brescia o resta sempre la salvezza da prima? No, gli obiettivi del Brescia sono salvezza e valorizzazione dei giovani Questo è quello che ci dice la società in continuazione È chiaro che se dovessimo arrivare alle ultime giornate Siamo in piena corsa per il playoff Cercheremo di metterci la tuta per farli e per raggiungere un sogno Ma il nostro obiettivo è la salvezza Siamo in una zona in cui siamo attaccati al treno playoff E siamo attaccati anche al treno playout Quindi dobbiamo stare molto attenti Dobbiamo rimanere umili e cercare di riniziare Facendo ciò di bello che abbiamo fatto nella prima parte Perché è una bella soddisfazione sempre all'incampo Quando magari ci sarà una parte in cui sarà il titolare sia Pizzi Che Mauro e magari entra anche Michele In Ciesero del quarto Meno vecchio Che è una bella sensazione No, a parte questo Voglio dire È cambiato qualcosa in questi anni Negli ultimi anni Una volta ricordo che Anche quando erano giocatori da 34-35 anni Ci arrivavano pochi Parlo di livelli importanti Ovviamente vediamo che 37 anni e 38 anni Questo è l'esempio I compagni anche Sono ancora su altri livelli Nonostante si parli sempre di una preparazione molto tirata Che porta magari Su un discorso di muscolatura Su un discorso di fatica Magari diversa a quelle che si facevano anni fa Però gli anni si sono allungati Lo studio va avanti Scopre sempre cose nuove Quindi anche preparatori atletici I metodi di allenamento Sono cambiati rispetto ad anni fa Quindi credo che se un atleta è fortunato Non ha infortuni seri E sa fare una vita d'atleta Può arrivare comunque a quella età lì Ci vuole credo comunque fortuna Fortuna e vita sana Questo giro andato a Bufo ricorderai Il gol numero 150 La parte più sentita dell'anno Della festa che ti ha fatto Ti hanno fatto sorpresa Sì, sono stati momenti bellissimi Spero che non sia comunque Un punto d'arrivo Io ho 35 anni A settembre farò 36 Però mi sto allenando Come non succedeva da due o tre anni Mi sento bene Quindi spero comunque Di allargare questo bottino Hai visto tutte le squadre Quest'anno C'è un titolo Andate con te Hai avuto con i libri Di pesarle un po' tutte Il Verona che sembrava una squadra Comunque lo è Comun'organico Superiore a tutte Però ho avuto anche E lei quel mesetto Di blackout In cui Si è fatta accorciare Dalle altre Non c'è Non ci sono Come gli altri anni Due o tre In fure Che sono decisamente Più forte Comunque molto Avanti a queste tre altre Come tu hai detto I playoff sono vicini Sono vicini anche a playoff C'è un equilibrio Particolare quest'anno Secondo te È perché C'è un livello Cioè si parla sempre di livello La B non so perché Si parla sempre di livello Verso il basso Si parla della Lega Pro Si dice sempre Verso la Serie A Pure La B è sempre quella Che dico Ma è un livellamento Verso il basso È un livellamento Per te Verso il basso O c'è forse Più un discorso Di equilibrio Dalle varie squadre Perché Probabilmente I valori Da chi viene dalla Lega Pro E ha fatto già uno squadrone E chi scende da là Non sono molto simili Sì Allora Innanzitutto La Lega Pro Per venire sulla Lega Pro Deve avere una squadra Fortissima Perché Ci sono tante società Che Che si stanno organizzando E fanno squadre forti Stessa cosa Per chi scende dalla Serie A Arriva con Con rose di Serie A E quindi Si trova un paragadute Si trova un paragadute Che avvantaggia Non di poco Adesso In Serie B Si cerca comunque Di fare delle rose Molto giovani Per scoprire talenti E venderli Per risanare un po' I bilanci Delle società E quindi I più bravi Riescono A arrivare più in alto Noi Da questo punto di vista Siamo fortunati Perché Abbiamo visto Anche in questo mercato Siamo riusciti A vendere un giovane Ce ne sono altri E ce ne sono altri Nel mirino Di società Importanti Siamo comunque In una buona classifica Per quello che sono I nostri obiettivi Quindi Per il momento Siamo contenti Di quello che stiamo facendo Ovvio Adesso inizia il ritorno Dobbiamo cercare Di dare il massimo Apprendere Il meglio Di quello che c'è da apprendere E poi Quando arriveremo alla fine Faremo i conti Hai detto Prima Per il momento Anche se non è che Sto pensando Chissà Di giocare Chissà quanto Mi sto godendo Questo momento Questo campionato Sto tornando a sentirmi Un atleta Più che altro L'anno scorso Mi ricordo Che facevo certe partite Zoppicando Senza allenamenti E facevo veramente fatica Nonostante questo Ho riuscito a fare 11 gol Quest'anno invece Mi sento bene Mi sto allenando Ci sono partite Che riesco a divertirmi Non sento più Dolore al ginocchio Quindi mi sto godendo Questo momento Poi Vedremo come starò Il prossimo campionato Decideremo Insomma Passo dopo passo Sentendoti Nel discorso Che hai fatto Una domanda precedente Mi sembra di sentire Parlare di un dirigente Tipo un giocatore Ti vedi un po' In questo In questo In cominci Ci sto pensando Insomma Anche perché Non sono più di primo pelo Quindi devo pensare Cosa sarà Della mia vita In questo momento Ancora Non riesco a pensarci Benissimo Perché non mi ci vedo Come allenatore Come dirigente Forse la cosa Mi affascina Però Mi sto sentendo Talmente bene Che mi sembra Ancora un discorso Abbastanza lontano Dove c'è ancora Un anno di contratto Ho ancora un altro Anno di contratto Quindi Lo rispetterai Sì Diciamo che se sto Come sto adesso Penso proprio di sì Però la proposta Da società Ci continui a pensare Oppure Lai lasciare No Era Diciamo che era Un pur parler Che mi ha fatto piacere Chiaro che Sapete tutti Quello che provo Io per Brescia Quindi il fatto Di poter rimanere Nel Brescia calcio Anche quando Non giocherò più a calcio È una cosa che a me Mi riempirebbe di orgoglio E sarebbe un onore Chiaro che Sono aperto Qualsiasi tipo di discorso E quando sarà il momento Credo che Ci sederemo un tavolo Però adesso Credo che anche la società È molto contenta Di come Mi sto comportando Da giocatore Per me l'ultima È passata La prima settimana Dopo il periodo Di vacanze Che è stato un po' Un richiamo Di preparazione Adesso si prepara Inizia a parte Guarda Bellino Come Personalmente Ma soprattutto Da capitano Vede tutti i compagni Siete pronti Per questo Ritorno al campionato Questa sosta Che ormai La giuda Da qualche anno Un po' lunga La vedi comunque Come Una Una cosa positiva O una cosa negativa Quando ci sono Quei 15 metri Giunni Senza Una partita No Io credo sia Una cosa positiva Perché Diversi giocatori Sono arrivati Secondo me Alla partita Col Trapani Cotti Quindi c'era proprio Bisogno di questa sosta Poi Adesso un po' Il clima è cambiato Non è più come una volta Che comunque Facceva freddo freddo Adesso sì Questi giorni Sta facendo freddo Ma fino Qualche giorno fa Si stava benissimo Però io credo Che è una sosta Che piace Che fa bene Per quel che riguarda La partita Col Avellino Dobbiamo arrivare pronti Dobbiamo Giochiamo in casa La prima partita Dell'anno In casa Dobbiamo sicuramente Arrivare pronti Non possiamo Permetterci Di arrivare Non pronti Anche perché Dopo avremo Due partite Fuori casa Difficilissime Quindi Dobbiamo Assolutamente Cercare di arrivare Pronti La partita Col Avellino Porto Grazie A voi